ciao a tutti oggi prepareremo le sfogliatine cuor di mela il tempo di preparazione della ricetta di 45 minuti circa gli ingredienti sono pasta sfoglia mele zucchero a velo cannella latte succo di limone uva sultanina ammollata e zucchero semolato diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele e le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'uva sultanina che abbiamo ammollato in acqua in acqua calda lo zucchero il succo di limone e la cannella ed azioniamo il bimbi per 30 secondi anti orario velocità 1 il composto è pronto mettiamolo da parte con l'aiuto di un coppapasta formiamo tanti dischetti e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno una volta formati i dischetti aggiungiamo il composto di mele chiudiamo i dischetti a metà e sigilliamo bene i bordi spennellare la superficie con il latte e spolverizzare la superficie con zucchero semolato cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa le sfogliatine sono cotte lasciamole intiepidire prima di servire sfogliatine cuor di mela grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti